Bloccata la refezione per le scuole materne San Cataldesi, la ditta seconda classificata alla gara d'appalto per il servizio Mensa ha infatti presentato ricorso al Tar. Secondo il Consorzio Nazionale dei Servizi di Bologna, che avrebbe affidato la gestione ad una ditta di Caltanissetta, il Consorzio Glicine di Palermo, che vinse la gara, avrebbe presentato un ribasso eccessivo. In attesa dell'udienza l'avvio del servizio è quindi posticipato. Il problema è stato che la ditta Glicine sia giudicata, come tutti sapete, il 6 di agosto, il servizio di refezione scolastica dando un ribasso del 16,50%, giudicato dalla seconda ditta che è arrivata in graduatoria come un ribasso eccessivo. E ha presentato ricorso al Tar con sospensiva, di conseguenza non si può partire col servizio di refezione scolastica. Però abbiamo appena saputo che l'udienza per il ricorso della sospensiva è stata fissata nei primi giorni e la settimana prossima. Quindi dopo quest'udienza cosa succederà? Potrà partire il servizio? Tutto vedremo quello che verrà poi stabilito nel corso dell'udienza.